A merito di Porto Salvo tutto sembra destinato ad andare in rovina. A meno di due anni dalla caduta dell'amministrazione comunale cadono anche gli alberi piantumati in memoria dei caduti delle grandi guerre. E cadono quelli sul viale delle rimembranze. Questo viale è recuperato e rimesso a nuovo nel 2007 e versa oggi in totale stato di abbandono e di incuria. Eppure non è lontano, anzi è proprio il viale nel quale insiste la residenza municipale presso la quale attualmente ci sono, o almeno alcuni giorni alla settimana, i tre commissari prefettici. In viale delle rimembranze, almeno nelle intenzioni di chi aveva promosso la ripiantumazione degli alberi, doveva servire per ricordare i nostri caduti durante le guerre. Allora nel 2007, quando è stato inaugurato, si è svolto a avere proprio a cerimoni alla quale parteciparono gli alunni delle scuole. Parteciparono con temi didattici. Ad ogni albero fu affissa una targhetta con il nominativo del militare caduto in onore della patria. Oggi, a distanza di otto anni dall'inaugurazione, a distanza di due anni dall'insediamento di una commissione prefettizia, uno a uno stanno cadendo anche gli alberi dedicati ai caduti delle guerre. Che vergogna! Nel viale rimembranze di Melito non sta perdendo quindi soltanto gli alberi, ma anche la memoria, la memoria storica, cosa che un paese civile non può permettersi di fare, perché la memoria è quel filo che lega il passato al presente e condiziona il futuro. Ed il futuro, se così è, è veramente condizionato. Il futuro è rappresentato a Melito soltanto dal degrado. Non è solo quindi una questione di decoro dell'ambiente. Ci va di mezzo anche la qualità della vita. Si cancellano i ricordi e si cancella anche la possibilità di un percorso civile verso il futuro. Oltre agli effetti economici, i danari, i mal spese, i danni che ne derivano, potrebbero servire, anzi serviranno in futuro, per mettere a posto, per nuovamente ripiantumare gli alberi, restaurare, inviare le rimembranze, serviranno altri costi e quindi altre spese. Ovviamente dovuti però a una omissione gravemente colposa, non avendo l'attuale gestione tecnica e amministrativa, svolto tutti gli adempimenti rientranti nelle rispettive competenze e nei dovuti interventi.